La nostra regione continua ad essere interessata da correnti umide e indistabili inserite in una circolazione depressionaria in movimento dalla penisola iberica verso Levante, depressione alimentata da correnti fredde provenienti dall'Europa settentrionale ed orientale, le quali scorrono sul settore settentrionale della depressione, mentre sul bordo meridionale risale area molto mite di natura africana, la quale tra sabato e la prima parte di domenica interesserà la nostra regione determinando un vistoso aumento delle temperature. Aumento delle temperature però che non sarà associato a bel tempo, ma a condizioni di tempo instabile a tratti perturbato. Inoltre, le insistenti correnti di Scirocco trasporteranno sulla nostra regione polvere saariana. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 9 gennaio, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni in intensificazione ad iniziare dal settore settentrionale della regione. Tra il pomeriggio e la serata i fenomeni si estenderanno all'intero territorio e nel corso della notte potrebbero risultare anche intensi. Temperature in aumento, venti moderati da sud con rinforzi in mare aperto, mare da poco mosso a mosso fino ad aggirato a largo. Domenica 10, iniziali condizioni di tempo instabile a tratti perturbato, con precipitazioni diffuse ovunque. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a localizzarsi sul settore centro-settentrionale della regione, ma dalla serata nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco interesseranno anche le rimanenti aree. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi, con tendenza a diminuire dal pomeriggio. Venti moderati da sud con tendenza a disporsi da ovest, mare mosso. Nella giornata di lunedì il fronte perturbato tenderà ad allontanarsi verso il Mediterraneo orientale, consentendo l'inserimento di correnti nord-occidentali. Caleranno sensibilmente le temperature, con valori che si riporteranno in linea con la media stagionale. Avremo ancora condizioni di moderata instabilità, con possibilità di altre precipitazioni, ma in via di attenuazione nel corso della giornata di martedì 12, quando ci attendiamo una ulteriore diminuzione delle temperature con l'inserimento di moderate correnti da nord o da nord-est. Una pausa anticiclonica con assenza di precipitazioni, che potrebbe essere seguita da un nuovo cambio di circolazione, questa volta però a causa di un deciso inserimento di aria molto fredda proveniente dall'Europa nord-orientale. Sul finire della prossima settimana, dunque tra il 16-17 di gennaio, la nostra regione potrebbe essere interessata da un'ondata di freddo piuttosto intensa, i cui risvolti andranno valutati con l'uscita delle prossime elaborazioni numeriche. Pertanto vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e a seguire le dirette giornaliere in video sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.